Bentornato su Gossip in the News Sta a destra un po' omofoba, un po' contro le donne Insomma, è strano che una donna giovane come lei, che in qualche modo... Contro le donne? Noi? No, beh, c'è una destra un po'... E come si sostiene una tesi del genere? Beh, insomma, diciamo, no? Un po' di maschilismo nelle persone, nei pregiudizi Beh, mi pare di no, ripeto, perché se ci fosse maschilismo, ci fosse un pregiudizio Io non farei il capo di questa comunità Si impegna però contro l'omofobia Adesso non apriamo la questione dei Zan perché non abbiamo il tempo, dobbiamo salutarci Però questi atteggiamenti, lei che ha vissuto il bullismo, lei che ha sofferto le discriminazioni Guardi che io ho fatto... io sono quella che in Parlamento ha presentato una legge contro il bullismo Il punto è che il bullismo è bullismo per tutti Non è che è bullismo buono verso qualcuno e bullismo cattivo verso altri Cioè il problema, io, diciamo, vengo definita omofoba perché con me non ci si vuole confrontare nel merito delle questioni che pongo Il problema è che siccome noi abbiamo una Costituzione che dice che la discriminazione è discriminazione E io sono ovviamente d'accordo Una cosa è che mi si dica, diciamo, alziamo le pene per la discriminazione Altra cosa è che mi si dica, facciamolo solo per alcuni Perché allora discriminare invece qualcun altro è meno grave Cioè attenzione perché si producono delle gerarchie che finiscono per creare delle discriminazioni E le dico un'altra cosa Lei mi parla delle donne Cioè la discriminazione è discriminazione Verso tutti gli esseri umani Che tipo di essere umano con i suoi... Ipoteticamente se la sua figlia amatissima avesse dei comportamenti maschili Le piacesse giocare con i soldatini o con gli aerei anziché con le bambole Ma perché mi ha preso? Ma non avrei alcun problema Guardi che io non ho alcun problema con le persone Perché di questo parlano anche tante famiglie arcobaleno Cioè parlano del fatto che i bambini possono avere degli atteggiamenti diversi da quelli che anche la famiglia... E bisogna combatterli, certo Ma si fa con leggi che riguardino tutti quanti Che in parte già esistono poi, diciamoci anche la verità Perché la discriminazione è già prevista nel nostro ordinamento e vale per tutti E questo si deve combattere Però mi perdoni, la legge ZAN prevede un'altra cosa Perché allora poi ne dobbiamo parlare La legge ZAN prevede un'altra cosa Che mi dispiace, ha poco a che fare con il tema della discriminazione Prevede altre cose Prevede, diciamo, di inserire una discrezionalità Quindi una serie di... La discrezionalità nella scelta, nell'adesione Io vengo definita omofoba Non sono mai stata omofoba in vita mia Vengo definita omofoba perché sono contraria all'adozione da parte delle coppie omosessuali Sono contraria all'utero in affitto Quindi, se io oggi vengo definita omofoba Perché sono contraria all'adozione da parte delle coppie omosessuali Non perché sia omofoba Segnalo, nel nostro ordinamento non è consentita l'adozione per i single Siamo singolofobi? No Quindi l'omofobia c'entra poco Con la posizione di garantire a un bambino Nel momento in cui i bambini che si possono adottare Sono pochi E lo sappiamo quante difficoltà incontrano le famiglie Di avere l'ottimum, no? Di avere un padre, di avere una madre Che siano in condizioni economiche buone Perché anche questo prevede il nostro ordinamento Che devi essere in buone condizioni economiche Che devi essere una famiglia stabile Mica siamo poverofobi Che chiediamo l'adozione per persone che abbiano la possibilità di garantire Un sostentamento Dobbiamo dare la pubblicità E però le voglio dire una cosa Velocissima sulla legge Zan Lei vi parlava delle donne prima Se noi inseriamo il principio nel nostro ordinamento Che io sono quello che mi sento di essere Lo capite o no che impatterà sui diritti delle donne? Ci fermiamo Perché le donne lo pagheranno Grazie a tutti Grazie a tutti